Buona serata e ben ritrovati in diretta con l'informazione dedicata al Veneto. Veneto che inizia a prendere coscienza di una crescita esponenziale dei contagi nelle scuole. Proprio per questo nelle prossime 48 ore sono previste le chiusure dei primi plessi scolastici in cui si registra un'incidenza di positivi superiore a 250 persone ogni 100.000 abitanti. In base alle disposizioni regionali tutti gli studenti della classe seconda media a salire del territorio dell'Ulst 4 saranno costretti alla didattica a distanza. Il provvedimento è stato annunciato oggi dalla dottoressa Francesca Russo, direttrice della prevenzione regionale. Da Palazzo Babbi hanno deciso di procedere con le chiusure chirurgiche su base distrettuale. Nello specifico sono tre i distretti a superare l'incidenza che comporta dunque la chiusura delle scuole. Quello dell'Alta Padovana, 272, quello di Asolo, 268 e quello del Veneto Orientale con l'incidenza maggiore in tutta la regione, ovvero 304 ogni 100.000 abitanti. Il distretto dell'Ulst 4 è unico per tanto tutti gli studenti del Veneto Orientale e dalla seconda media in su dovranno svolgere le lezioni in modalità di didattica a distanza. La misura entrerà in vigore a partire da giovedì. Questo a fronte, dicevamo, di una crescita dei contagi. Andiamo a vedere proprio il quadro aggiornato per il Veneto. 757 i positivi nelle ultime 24 ore, con il totale che sale a 343.267. 12 le vittime con il bilancio che sale a 9.980 dall'inizio della pandemia. I dati li ha forniti il governatore del Veneto, Luca Zaia, che oggi in conferenza stampa è tornato a parlare anche del Via Libera, ai vaccini AstraZeneca per gli over 65, ma anche di un tema che interessa molto per i prossimi mesi, quello del passaporto vaccinale. Nelle ultime 24 ore abbiamo intercettato 757 positivi. Che rapportati, vi ricordo sempre che stiamo parlando di un dato di domenica, che sono sempre dati così, quindi non è la rondine, una rondine non fa primavera si dice, no? Rapportati 10.260 tamponi, sono 7,38 di incidenza, però non è un dato che possiamo prendere per buono, nel senso che dovremo vedere i dati dei prossimi giorni. E quindi capite che la vera sfida per noi restano i vaccini. Ormai è notizia ufficiale, possiamo dirlo, di Astra, no? Astra è arrivato, si va over 65. Tutti i discorsi che ho fatto qua, che sembravano strampalati, anche lì avevamo visto giusto, no? Quando vi dicevo, ma perché fino al 55? Poi l'hanno portato al 65, ma perché fino al 65 se poi le direttive a livello internazionale sono altre? Bene, da questo istante noi vacciniamo tutte le classi di età, ovviamente salvo che non ci siano comorbidità o patologie tali per cui comunque devi avere, diciamo, delle precauzioni con AstraZeneca. Passaporto vaccinale ci stiamo lavorando ed ho chiuso, anche qui. Quando ne ho parlato io non ne parlava nessuno, neanche in Europa. Adesso sta diventando realtà, però vorrei dire agli riducibili che ci scrivono. Cioè noi non facciamo discriminazioni. Se una persona non può o non vuole farsi il vaccino, ha diritto di non farselo e di fare la scelta responsabile. Però è pur vero che se ai nostri veneti qualcuno gli chiede per salire in aereo, andare ad entrare in una struttura ricettiva, andare da qualche parte, dimostrami la vaccinazione, non è che possiamo fare il pass da run e dire no, noi rilasciamo l'avvenuta vaccinazione. E non pensiamo che sia una mancanza di rispetto nei confronti di chi non si è vaccinato. Anche perché chi non si vaccina per scelta deve sapere, che deve ringraziare sempre chi si è vaccinato per garantire l'immunità di greggio. Andiamo a commentare dunque le dichiarazioni di Zaia, ma anche l'allerta sul fronte scuola in Veneto, assieme a Dario Gervasuti dalla redazione del Gazzettino. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Chiaramente il giorno in cui si raggiungono purtroppo i 100.000 morti per questa pandemia è un giorno in cui appare francamente difficile commentare altre situazioni come quelle che si sono viste per esempio perfino nell'ultimo weekend prima del passaggio in zona arancione. Sono situazioni che portano Draghi, il Presidente del Consiglio Draghi, a prevedere una sorta di lockdown nel corso del weekend. E quindi una stretta che dovremmo sopportare quantomeno fino a dopo Pasqua perché le previsioni dicono che proprio in Veneto, per esempio, a fine Pasqua, o meglio, è stato anche identificato il giorno preciso, il 27 di marzo, ci sarà il picco, verrà raggiunto il terzo picco di contagi e di morti in questa pandemia. A fronte di questo registriamo che l'Unione Europea ha ammesso sostanzialmente che solo il 10% dei vaccini è stato consegnato all'Unione Europea o meglio, il 10% dei vaccini promessi. Questa è una situazione che ovviamente apre degli squarci di forti dubbi e polemiche nei confronti sia dell'Unione Europea, che non ha saputo ovviamente garantire i suoi cittadini, che nei confronti delle società che producono questi vaccini. Ovviamente sono colpe gravissime che però hanno come contraltare l'annuncio del Presidente del Consiglio Draghi che saranno 14 milioni i vaccini che da questo mese dovrebbero essere inoculati ogni mese da qui al raggiungimento dell'immunità di greggio. Quindi significa che 45-50 milioni di italiani dovrebbero essere vaccinati entro fine maggio, entro all'inizio di giugno. Quindi diciamo che per l'inizio dell'estate dovremmo esserci. È però al momento solamente una speranza, o quantomeno è l'annuncio che ha fatto quest'oggi Draghi. Cambiando argomento per quanto riguarda le notizie che troverete domani su un gazzettino, in Edicola, ovviamente diamo spazio oltre alla vicenda di quell'azienda che produce droni e sistemi di volo del Pordenonese che è stata accusata sostanzialmente di violazione dell'embargo perché ha venduto dei droni all'Iran. Vi segnalo in un ambito analogo, perché sempre di militari stiamo parlando, che ha il processo contro i sotto ufficiali accusati di vessazione nei confronti di una soldatessa dell'aeronautica veneziana che sarebbe stata a suo dire maltrattata durante una sorta di festa di celebrazione goliardica al conseguimento del diploma di volo. Ebbene, in difesa di questi sotto ufficiali, l'aeronautica chiamerà a testimoniare due astronauti, Parmitano e Astro Samanta, che andranno sostanzialmente a confermare che non si trattò di violenze, bensì di pesanti finché si vuole, ma nei limiti del tollerato, giochi finalizzati a una goliardia comune a quasi tutte le conclusioni militari di un certo tipo. Queste e altre notizie le troverete domani su nel Gazzettino in Edicola oppure già dalla mezzanotte per chi ha l'abbonamento digitale. Grazie, grazie Dario Gervasutti dalla redazione del Gazzettino. Noi proseguiamo con il nostro notiziario. Prima parlavamo proprio anche con le dichiarazioni di Zaia del futuro, dei prossimi mesi di una riapertura, si auspica al più presto anche per il settore del turismo. Ebbene, a Venezia ci sono già i primi segnali di molte prenotazioni per l'autunno. Vediamo. Sebbene con molta prudenza stanno arrivando per Venezia le prime prenotazioni turistiche per il mese di aprile, soprattutto a partire da mercoledì 7, in concomitanza con la scadenza dell'attuale DPCM. I turisti provano a fissare, ma restano pronti a rientrare nel caso di un peggioramento della pandemia e, alla peggio, provvedono alla disdetta qualche giorno prima. Claudio Scarpa, direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, ha spiegato quando sarà possibile andare da un territorio regionale all'altro, almeno il turismo italiano riprenderà e sarà su questa tipologia di visitatori che la città vivrà per i prossimi 4-5 mesi. Mentre per il turismo europeo e internazionale bisognerà aspettare la ripresa dei voli. Le prenotazioni arrivano anche grazie agli eventi culturali previsti per la primavera. Sono infatti in programma le aperture delle mostre alla Fondazione Cini e a punta della Dogana e da fine maggio la Biennale Architettura dovrebbe riprendere il proprio posto in Arsenale e ai giardini di Castello. Scarpa afferma anche che la prima richiesta da parte dei turisti è che l'hotel sia covid-free. La possibilità di vaccinare i dipendenti, quando sarà possibile, sarebbe molto importante per attirare i clienti. Giornata della donna e giornata di bilanci sul fronte delle imprese femminili in provincia di Treviso. Ne ha parlato attraverso uno studio confartigianato. L'Ufficio Studi Confartigianato Imprese Veneto ha fatto il punto sulla presenza femminile nelle imprese artigiane. Ciò che è emerso nella marca è che le donne che ricoprono cariche in tali aziende sono 6.760, pari a poco più del 10% del totale in Veneto, e che tale dato colloca la provincia di Treviso al terzo posto in regione. Quanto al numero di persone artigiane nella marca, la presenza femminile ammonta il 22,4%. Il trend, che dal 2016 è stato in costante salita, ha invece fatto segnare una contrazione nel corso dell'ultimo anno, e tale riduzione va imputata, secondo l'associazione di categoria, alla maggior difficoltà causata dalla situazione sociosanitaria nel coniugare lavoro ed esigenze familiari. Dando un'occhiata ai servizi delle imprese in cui le titolari sono donne, emerge che sono trainanti i servizi alla persona e le aziende manufatturiere, mentre fanalino di coda è l'edilizia. Secondo Confartigianato, è importante sfruttare l'attitudine femminile all'innovazione e al digitale, e per mantenere un rapporto sostenibile tra pensionati e lavoratori attivi, sarà fondamentale crescere l'occupazione femminile, che oggi si attesta a un poco incoraggiante 56%. Altri lavoratori, quelli della AVM, sono scesi in piazza stamattina a Venezia. Vediamo perché. Sono 500 i lavoratori del gruppo AVM ACTV che questa mattina sono scesi in piazza Venezia per manifestare contro la disdetta del contratto integrativo di secondo livello deciso dall'azienda di trasporti a fine gennaio. Fin dalle ore 10 il piazzale della stazione Santa Lucia si è riempito con le bandiere delle sigle sindacali. Dopo 40 giorni di trattative e il precedente sciopero dell'8 febbraio i sindacati sono pronti a nuove iniziative. I rappresentanti questa mattina si sono alternati sul palco montato ai piedi della scalinata della stazione per dar voce alle proteste dei lavoratori in vista della disdetta prevista per fine marzo. È stato lanciato un appello anche in difesa delle lavoratrici donne a favore della parità di genere. Gli spostamenti in città e nelle isole sono stati garantiti solo dai servizi di trasporto essenziali. La cronaca furibondalite tra due operai di origine kossovara nella prima mattinata di oggi a Treviso all'interno di un'azienda agricola nella comune di Quinto al Civico 3 di Via Lazzaretto. Un 22enne per dissapori legati sia a motivi personali che lavorativi ha cosparso l'altro collega, 36enne, di un liquido infiammabile e gli ha dato fuoco. L'aggressore è stato bloccato dai militari dell'arma e condotto in caserma in stato di fermo. Risponderà del reato di tentato, omicidio e attualmente si trova rinchiuso nel carcere di Santa Bona. Il ferito, il connazionale, è stato soccorso dai presenti che hanno chiamato il 118 e trasferito all'ospedale Caffoncello di Treviso. Le sue condizioni sarebbero gravi. L'uomo ha riportato lesioni al torace, al dorso e a un braccio ed è stato poi trasferito al reparto Grandi Ustionati di Padova. Sempre per quanto riguarda il territorio trevigiano sono state rimosse da un profilo Instagram alcune fotografie scattate al Museo di Santa Caterina perché ritenute offensive ed esplicite. Ci spiega tutto Raffaele Ferraro. Si ripropone la questione della censura dell'arte da parte dei social network. In particolare, un episodio accaduto nei giorni scorsi riapre il dibattito se sia appropriato far giudicare a un algoritmo se un'immagine sia troppo esplicita o offensiva. Sono state infatti recentemente rimosse da un profilo Instagram alcune fotografie scattate al Museo di Santa Caterina di Treviso perché l'algoritmo ha confuso un particolare di un'opera con una svastica e una scultura con un fallo alato. La censura social ha colpito in passato a Treviso La fontana delle tette, svariate opere di Canova e La statua e il bacio di Auguste Rodin che nel 2017 era stata selezionata come locandina dell'esposizione organizzata da Marco Goldin e che fu in seguito riabilitata. Lo stesso Goldin ha dichiarato che a suo avviso l'arte tutta non debba essere censurata e che il canone di bellezza universale che propone non abbia nulla a che vedere con la sessualità. Al di fuori dell'ambito artistico l'algoritmo ha dato prova della propria fallaccia anche con le parole, oltre che con le immagini individuando ad esempio come razzisti post di utenti su Facebook che si riferivano a Toni Negri o alla poetessa Ada Negri. Andiamo in provincia di Belluno dove il comune di Belluno certifica gli eventi green quelli che rappresentano insomma un segnale di sostenibilità ambientale. Già arrivata la prima richiesta all'amministrazione comunale. Sono state approvate da poche settimane le linee guida per le certificazioni di eventi green sostenibili e a basso impatto ambientale organizzati nel territorio del comune di Belluno. E nonostante uno scenario globale che ancora scoraggia gli organizzatori di manifestazioni nei giorni scorsi il comune ha già ricevuto e accolto la prima richiesta di certificazione. Sentiamo di cosa si tratta dalla voce dell'assessore alle manifestazioni del comune di Belluno, Yuki D'Emilia. A poche settimane dalla presentazione delle linee guida per l'organizzazione di eventi a basso impatto ambientale è già arrivata la prima richiesta di certificazione come green event Belluno e quindi questo ovviamente ci fa piacere perché vuol dire che la nostra proposta è stata accolta subito con favore dagli organizzatori. La prima richiesta è arrivata dall'associazione Scuole in Rete che propone una serie di incontri online quindi sicuramente a basso impatto ambientale e si concentra sulle tematiche di sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale temi che ci sono ovviamente cari e anche la promozione sarà principalmente digitale online e coinvolge anche una serie di attori del mondo del volontariato. Quindi non possiamo che accogliere con favore questa richiesta e speriamo che questa sia la prima di numerose certificazioni anche per eventi più classici che speriamo possano riprendere in presenza quanto prima. Andiamo a parlare di sport con il quadro della situazione in serie B il Venezia è stato sconfitto in casa dal Brescia nella sfida disputata sabato 1-0 risultato in favore delle rondinelle per quanto riguarda gli altri risultati delle formazioni venete stasera in campo il Vicenza nel derby contro il Chievo Verona 2-0 al momento il vantaggio della formazione eberica mentre il Cittadella ha imposto il pari 1-1 all'Empoli capolista la classifica aggiornata vede proprio la formazione toscana quota 50 in seguita dal Monza 47 il Venezia è stato scavalcato dalla Salernitana e la formazione lagunare attualmente si attesta quota 45, 41 punti per il Cittadella per quanto riguarda invece il Vicenza ha sorpassato il Pordenone a quota 34 il Chievo Verona invece a 42 sovrasta proprio il Cittadella lo sport Veneto e il calcio in particolare si interroga sul futuro della ripartenza dei campionati di eccellenza se in Friuli Venezia Giulia le società dell'eccellenza hanno detto per la stragrande maggioranza no a una ripartenza dei campionati in Veneto questo l'esito della riunione è appunto tra le società scorrendo il sito del Comitato Regionale della FIGIC del Veneto si racconta appunto che le società presenti nella loro totalità si sono espresse nel numero di 16 favorevoli 9 nel girone B e 7 nel girone A alla ripartenza, le rimanenti 20 ovvero la maggioranza con ramarico hanno chiesto di fermarsi qua il Comitato Regionale del Veneto dunque trasmetterà questa manifestazione alla Lega Nazionale di Lettanti al fine di poterne discutere in occasione del Consiglio Direttivo Nazionale in programma mercoledì 10 marzo 2021 ci fermiamo qui, grazie per averci seguito spazio alle previsioni del tempo, buona serata Amici di Udinese TV che ci seguite dal Veneto ben ritrovati da Fabio Dalio di Trebi Meteo vediamo la giornata di martedì il tempo sarà abbastanza soleggiato sul Triveneto seppur con l'ingresso di correnti più fredde da est che favoriranno a inizio giornata qualche addensamento sui settori prealpini e al confine con la Lombardia ma nel complesso il tempo sarà asciutto con ampie schiarite un po' su tutta la regione specie nella seconda parte del giorno le temperature saranno in calo soprattutto nei valori massimi il clima sarà abbastanza frizzante infatti non andremo oltre gli 11-12 gradi in pianura la ventilazione è piuttosto tesa di bora lungo le coste e il mare si farà molto mosso a largo ma per ulteriori dettagli scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti